La comunità ha concluso il Pontefice. A Torrita, una piccola frazione del comune di Amatrice, riapre il bar, una spinta concreta al desiderio di rinascita del borgo, in servizio della nostra inviata Gemma Giovannelli. Questo è il bancone che stava dentro l'avecchio bar, l'abbiamo tirato fuori e l'abbiamo riutilizzato per rimetterlo qui. Il bancone recuperato tra mille pericoli, con l'aiuto dei vigili del fuoco e degli amici, è il simbolo della tragedia ma anche della rinascita. A Torrita, frazione di Amatrice, i suoi abitanti è Fabio D'Alessio, 36 anni, che riparte da qui, da questa struttura in legno, a soli pochi passi da ciò che resta del suo bar e ristorante, distrutto sotto i colpi del sisma. Stiamo qua, non ci vogliamo muovere, non ci vogliamo muovere pure la gente che adesso sta sulla costa, che è l'Aquila, vogliono rivenire tutti, se gli rifanno le casette, rivengono tutti, insomma. Un punto di riferimento per la comunità nel segno della rinascita. Un'aggregazione per la gente di qui, altrimenti qui è finito tutto. Un caffè, un cappuccino, una parola con un amico. Grazie anche alla Conf Commercio di Rieti e alla Federazione Italiana, pubblici esercizi. Il segnale di apertura di un luogo come il bar è la più grande espressione di gioia, ma anche di voglia, di socialità e di ricominciare a vivere. Intanto ad Amatrice, mensa dell'area food, pronta entro il 20 marzo, mentre in fase di montaggio il blocco 2, che ospiterà i ristoranti a tempo. Sono le sfide di un territorio, quello del reatino e del suo futuro, raccontate in un libro dal giornalista Marco Fuggetta, presentato ad Antrodoco. Tra le tante sfide che deve affrontare questo territorio, la più importante, la principale, è sicuramente la sfida della ricostruzione, non soltanto materiale, ma anche economica e sociale, in relazione a tutti i problemi che si stanno generando su questo territorio a partire dal 24 agosto in poi. Noi stiamo soffrendo tantissimo, Antrodoco aveva una vocazione commerciale importante, e malgrado non avessimo avuto dei danni significativi, noi notiamo che l'economia soffre, soffre tantissimo. Ricostruire ciò che è andato distrutto è la priorità, ma anche aiutare la popolazione a superare un momento difficile e devastante dal punto di vista psicologico.